La sparagina è la parente ornamentale dell'asparago, il gustoso germoglio che mangiamo. È una pianta sempreverde che con le sue folte e fronde regalerà un tocco di vivacità alle nostre case, ai nostri balconi e terrazzi. Si pressa molto bene ad essere allevata anche in panieri sospesi. È una pianta di facile coltivazione, vediamo assieme quali sono le sue esigenze. La sparagina è una pianta che cresce molto velocemente, perciò va rinvasata in primavera quando le dimensioni sono eccessive e le radici sono molto fitte e escono dal terreno sulla superficie del vaso o dai fori di scolo del vaso. È una pianta che ha bisogno di un terriccio soffice e ben drenato, andremo a utilizzare il terriccio universale Garten Torfi. Fondamentale è sempre assicurare un buon drenaggio, quindi andremo a mettere sul fondo del vaso dell'argilla espansa, in modo da facilitare la fuoriuscita dell'acqua in eccesso. Andremo a posizionare la pianta in una zona della casa, del terrazzo del giardino luminosa o in ombra parziale, non sopporta i raggi diretti del sole. La temperatura ideale per la coltivazione di questa pianta è tra i 15 e i 18 gradi, non sopporta temperature inferiori ai 7 gradi. In inverno, infatti, è meglio tenerla in casa o posizionarla in una zona riparata. La presenza di foglie che disseccano e cadono può infatti significare che non sono appropriate le temperature a cui è esposta la pianta, sono troppo basse, quindi andiamo a tenerla in casa al riparo. Per favorire la crescita di piante stentate, sostenerle in caso di stress ambientale, andremo ad utilizzare un concime biostimolante granverde e oro da diluire in acqua e dare direttamente al terreno. Molto importante per una corretta crescita della pianta è l'irrigazione e l'umidità che bisogna fornire alla sparagina. In primavera e estate la sparagina ha bisogno di essere irrigata frequentemente, mentre negli altri periodi dell'anno è sufficiente mantenere umido il terreno. Nei periodi più caldi è necessario nebulizzare le foglie con dell'acqua, possibilmente non calcarea, quindi se abbiamo la possibilità di raccogliere l'acqua piovana è la migliore. Per esaltare la bellezza delle piante, favorire lo sviluppo sempre di nuove fronde, dobbiamo fornire gli elementi nutritivi necessari. Questo lo facciamo attraverso il concime granverde, liquido per piante verdi. Andremo a diluire mezzo tappo misurino di concime in un litro e mezzo di acqua e diamo la soluzione al terreno. Ripetiamo quest'operazione ogni 15 giorni in primavera-estate, una volta al mese in autunno-inverno. La pianta di sparagina non richiede una vera e propria potatura, andremo solo ad eliminare le foglie che si seccano alla base della pianta, in quanto potrebbero essere veicolo di malattie. Inoltre per stimolare la formazione di nuovi germogli è opportuno effettuare una potatura delle fronde più vecchie, ovvero con le parti ingiallite della pianta. La sparagina è una pianta particolarmente resistente ai parassiti e alle malattie, però talvolta può essere infettata dalle cocciniglie. Questi minuscoli insetti si posizionano sui fusticini della pianta come delle piccole screscenze marroncine. Provocano un deperimento generale della pianta e inoltre producono una gran quantità di sostanza zuccherina melata che imbratta la pianta e favorisce lo sviluppo di funghi. Trattiamo quindi di insetticida anticocciniglia specifico pronto all'uso oleosan plus, avendo l'accortezza quindi raggiunge gli insetti presenti sulla pianta.